Pippo, ma lo sai che è aumentato il gas? L'hai sentito? Ah, vabbè, che dobbiamo fare? Purtroppo c'è la guerra, la crisi, poi qui comunque non fa molto freddo. Ci mettiamo un colpino e così risparmiamo un pochino sul gas. Pippo, ma lo sai che è aumentata anche la luce? Eh, è normale, scusa, purtroppo c'è la crisi e vuol dire che comunque facciamo anche un bene all'ambiente perché andiamo al letto prima, accendiamo di meno le luci. Pippo, ma lo sai che è aumentata anche la benzina? Eh, lui purtroppo era scontato che aumentasse la benzina perché comunque è con la guerra, però secondo me è una cosa positiva perché andiamo di più a piedi, facciamo un po' di moto, facciamo vedere il bene all'ambiente, dai, si risolve. Pippo, ma lo sai che sono aumentati anche i fumetti? Ma porca di quella, quanto ragazzo, non è! Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lasciami un like e condividi. Se ancora non sei iscritto alla soffitta di Pippo, mi raccomando, iscriviti per rimanere sempre aggiornato sui miei contenuti. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui sulla soffitta di Pippo. Ciao!